Salve bella gente, qui Gabby, e benvenuti su The Deepest Sleep, sonno profondissimo. Continuiamo la nostra serie su Deep Sleep, gettandoci ad occhi chiusi in questo incubo. Incubiamoci. Questa volta non si torna indietro. Me lo sento. For the best game experience, ecco. Sono pronto. Sono qui. Mi sono svegliato nel mezzo della notte. Non potevo muovermi o dire qualsiasi parola. C'era qualcuno nella mia stanza. E quel qualcuno lo vedo, è qui a sinistra, vedete, c'è una figura. Una fredda notte fuori. E non perdo mai le occasioni per fare un po' di meteo, anche quando ho gli assassini in casa. Buongiorno. C'è qualcuno qui? Oh cielo, non riesco a muovermi. Sembra che mi stia fissando. Prima o poi leggerete sul giornale... Morto di spavento. Bene. Perfetto. Una volta tanto mi hanno dato una torcia con un paio di batterie, evviva. Dov'è andata l'ombra? Questo scaffale è vuoto. Come la mia viscica. Mi sa che ho appena inondato quel letto di prima. E qui... Un vaso. Ai! Che è successo? Ci ha aperto la porta? Io non ho fatto niente, ho solo toccato quel vaso. E va bene. Penetriamo i nostri incubi. Cosa c'è lì in fondo? Chi va là? No, basta, 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 basta. Per favore, basta. Un salone? Salve bella gente. Allora, questo matrimonio... Dove sono gli sposi? La chiesa è deserta. Sì, mi ricorda un po' una chiesa a questo posto. Va bene. Qui cosa abbiamo trovato comunque? Un vaso chiuso, completamente sigillato. Andiamo un po' qua a sinistra allora, tanto per vedere. Ah, una bobina con un filo. Mentre qua c'è un foglio, leggiamo. Caro Bert, sono sicuro... Bert non era il clown? Non era il clown, Bert. Comunque, sono sicuro che questa nota ci sia arrivata in qualche modo. Così hai seguito quello stupido viaggiatore. Anche se sapevi cosa sarebbe successo. Adesso tu sei nel profondo dell'abisso. Nella merda fino al collo, insomma. È molto importante che tu eviti gli alimentatori abissali. Loro sentono quando ti muovi. Non fare movimenti bruschi vicino a loro. Stai anche attento alla chiesa oscura. L'oscurità lì potrebbe soffocarti. Trova una scala. Ti porterà di nuovo in superficie. Sinceramente, te stesso. Quindi noi siamo Bert, il clown? È quello che tenta di dirvi questa nota? Sono un clown! Sono un clown! E non c'è niente da ridere! Che bello, che bello. Sono nell'abisso. Sono nell'abisso. Che lavoro mi son scelto. E una cosa è certa se sono qui sono un clown triste di quelli proprio tristi va bene comunque dobbiamo andare avanti tristezza o non tristezza vediamo un po' qui allora proviamo ad andare qui a destra c'è una porta si entriamoci buongiorno ancora quel quadro orribile del cavallo abbiamo qui è un libro gli alimentatori avvissali loro vivono a livello più basso del mondo dei sogni nutriendosi di qualunque persona finisca in questo posto anche le persone delle ombre hanno paura di loro sono ciechi però hanno i sensi possono sentire infatti la vibrazione e i movimenti ma stando perfettamente fermo dovresti essere e qui un'ombra ha fatto i suoi bisogni un cacciavite quello che avevamo utilizzato con felicità speriamo soltanto che non spunti di nuovo quella lì perché se no la prendo quella scopa questa scopa boom 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 succede la faccio partire felicità boom fuori dalla finestra vabbò però qui c'è un martello abbiamo trovato un martello e fatemi pensare dato che abbiamo il vaso sigillato volevo provare una cosa eureka abbiamo tenuto ma questa è una gemma che avevamo già utilizzato per il faro è ritornata fra di noi va bene una shiny gem comunque vediamo qui a destra cosa ha sono loro gli alimentatori abissale dimmi che non sei un alimenta tu non sei un alimentatore abissale vero no 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 è quello che sente i sensi ah ok è soltanto una statua c'è però una gemma incastonata dentro la sua bocca beh allora prendiamocela con la forza come faccio io spacco le statue ah questo potrebbe rompere la gemma e se provassi con il cacciavite ah avete visto ne abbiamo due due gemme nel mercato delle ombre farò affari d'oro con queste gemme mentre qui c'è una porta avete visto è lo stesso filo della bobina ok sto cominciando un po' a capire qua cosa sta succedendo va bene grazie per la gemma io me ne vado me ne vado a dire il vero qui c'è ancora una porta che dovevamo guardare si questo qui ha tutta l'aria di essere un posto comandato dagli illuminati ma eccoli si gli adoratori del culto del diavolo stavo pensando ad una cosa le gemme che abbiamo trovato entrano perfettamente sono perfette nonna peccato volevo venderle ma mi sa che le venderò qua a questo diavolo ma tu lasciami in pace bene la porta si è aperta oh cosa sono tutte queste mosche dovete un po' pulire questi posti se no si fanno infezioni ok dobbiamo cercare di capire qua cosa c'è oh abbiamo ottenuto un'altra gemma cosa ha fatto no si è chiusa la porta allora fatemi vedere un attimo se rimetto la gemma qui qui si apre ok e vediamo cosa c'è a sinistra un'altra porta che la gemma vada qui che dobbiamo aprire qua vediamo ah si funziona così forse ho capito vedete ci sono robbi blu e le gemme proviamo a fare una cosa prendiamo le due gemme e mettiamola una sul robo blu e un'altra su questo robo blu ah ok ho capito è un puzzle molto semplice ok ok però stare qua con tutte queste mosche che non so se siano mosche non mi piace rimanere qui che sia questa la chiesa oscura allora forse sono loro che si nutrono di me e avevo detto che non dovevo stare troppo qui dentro quindi forse è meglio che mi sbrighi mi sbrighi 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 cosa abbiamo trovato? una manopola ok perfetto adesso devo tornare indietro però e il problema è che la porta è chiusa c'era un'ombra è passato uno ok allora devo assolutamente muoverli se iniziano a passare anche persone così senza ritegno per me è l'ultima ehi pivello ho sconfitto il tuo tranello me ne vado bello una bobina senza manico ma adesso il manico ce lo abbiamo infiliamolo qui dentro apriamo e penso che siamo riusciti ad aprire quella porta che era chiusa prima andiamo un attimo a vedere sì perfetto è aperta queste fogne però sono sicuramente più pulite dei mari italiani quindi proseguo no qualunque cosa sia andata via lì è andata verso destra e anche io devo andare verso destra e queste cosa sono? barre che non si muovono ed è meglio che non si muovano per ora quindi entriamo qui dentro qui qualcosa non quadra ci ha pure squartato qui ah no è il fiore pensavo che li avessero squartato a proietti li avessero pure impiccato l'unica cosa che mi viene in mente è che sia un fantoccio allora proviamo a dispezionarlo si deve essere impiccato perché nessuno rideva delle sue performance e le babbucce non posso rubarle eh babbucce si è impiccato però con questo sgabello che mi sono preso ripose in bacce piccolo angioletto tornando alle cose serie questo è il sistema per aprire le sbarre infatti qua vedo bobina collegata alla porta che abbiamo aperto che però alza anche la sbarra quindi penso che quando la porta è chiusa la sbarra si apre e questa è la stanza dell'impiccagione proprio si è la stanza dell'impiccagione è fatta apposta per le persone per impiccarsi va bene e allora vediamo se la mia idea funziona ah ogni volta che lo vedo mi prende un mal di stomaco eh se io adesso provo a mettere lo sgabello qui allora funziona allora abbiamo già capito cosa fare qui è stato molto semplice qui tiriamo giù e ora dovrebbe essersi bloccato il tutto e possiamo passare si passo sotto lo sgabello e ora la gratta è aperta perché dovrei seguire quella cosa che è andata a destra io vado a sinistra tranquillo via bloccata ci costringono e qualunque cosa sia uscita da questo muro era bella grande infatti qua non ci posso andare perché non posso scappare dal muro che è aperto no dobbiamo affrontare le nostre paure vabbè ora va la spacca andiamo salve signor mostro buco nero più che buco nero sembra un orifizio vabbè lasciamo perdere con i miei movimenti lui si sveglia qua c'è una leva una leva che fa qualcosa io provo a premerla si è aperto qualcosa si è aperto qualcosa devo fare in fretta devo fare in fretta senza venire sbranato è a tempo è a tempo ok si si è aperto una porta a destra davanti a quella scrivania manca soltanto Sherlock Holmes seduto e siamo a posto elementare Watson qui dentro purtroppo però non c'è niente ma qui c'è una nota di cui non capisco il significato per ora non mi dice niente strani giroglifici io non sono un detective non riesco a capire queste cose vabbè continuiamo ad andare avanti cosa abbiamo qui una scatola musicale e un bagno con uno specchio rotto si deve essere beccato un bel po' di anni di sfiga quello che ha rotto questo specchio ma c'è una chiave una chiave d'oro cioè qua troviamo tutta roba di valore che una volta usciti di qui milionari magari potersi portare le robe dai sogni quante robe preziose si trovano questa scatola musicale non si può aprire proviamo con la chiave che abbiamo appena trovato troppo facile troppo facile adesso abbiamo raggiunto la zona più oscura qua ci sta qualcosa di quadrato mentre qualcosa sta bloccando questa manovella secondo me ha a che fare con le cose quadrate ma continuiamo ad andare più a fondo a questa storia molto bene ah di nuovo quella libreria che sembra che abbia caramelle si le gelatine tutti i gusti più uno premendo la libreria niente di interessante in compenso abbiamo ottenuto una tanica d'olio andiamo qui a sinistra di nuovo i funghi ci rincontriamo un grasso fungo olioso tutto bello e ingrassato dall'ultima volta che ci siamo incontrati pensando se con la tanica per l'olio potevamo raccogliere questo olio proviamoci subito prima devo trovare il modo per tirare fuori l'olio ok ragazzi chiudete gli occhi perché sto per fare un omicidio salutate il fungo per l'ultima volta mi dispiace tanto lo giuro non l'ho fatto apposta non mi serve più scusate ho tolto il padre dei funghetti qualcuno qui ha fatto un bel casino aspettate però c'è un'apertura una tavola di pietra ma non posso raggiungerla è troppo lontana e qui cosa c'è? una chiave a molla da qui non possiamo fare niente ci tocca vedere cosa c'è per di qua allora è troppo arrugginita è ferma ma noi abbiamo la tanica per qualcosa vediamo se funziona oh sì l'ho ugliata e ora si apre mi avevano detto che ero praticamente giunto alle profondità ma si vede che possiamo andare ancora più a fondo cosa ci sarà adesso? oh è qui la tavoletta oh no è andato devo stare fermo devo stare fermo vediamo se c'è una via d'uscita fermo 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 lui capta ogni mio movimento che bei denti che hai belli grandi belli grandi io vado qui salvi per il momento una pila di piatti fatemi pensare lui ha tirato dal rumore giusto? allora proviamo vai martello sì ok lui adesso è stato distratto io posso prendermi questo però lui sta tornando e allora bene e lì dentro non ci torneremo mai più lo dice anche lui abbiamo due pezzi di roccia una chiave a manovella perfetto proviamo a tornare indietro e vedere un po' qui intanto proviamo a vedere se possiamo ecco vedete entrano perfettamente ok qualcosa abbiamo fatto ma qui non si muove allora tornando indietro vediamo cosa possiamo un po' fare questa scatola musicale se ci mettessi questa chiave vediamo se funziona ha funzionato cos'è successo lì? cosa ho attivato? pieno di sangue ma nemmeno su soft l'enigmista c'è tanta crudeltà io dovrei passare lì in mezzo sarebbe veramente doloroso qualcuno però ci ha provato e non ha fatto una bella fine ma non sarò certo io a riprovarci no dobbiamo tornare oh qui è cambiato tutto hanno distrutto tutto l'ufficio praticamente oh qualcuno sta facendo casini forse prima non stavo sognando ma adesso gli incubi si sono fatti ancora più profondi cosa c'è qui? un pesce sembra un pesce morto ti dispiace se ti prendo l'ultimo pezzo che mi serve? ok perfetto benissimo le ombre continuano a seguirmi le ombre qui intorno no 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 non ho fatto bene le ombre si fanno sempre più frequenti adesso ok lì dentro non possiamo entrarci vabbè torniamo indietro e mettiamo non era l'ultimo infatti me ne manca uno di pezzo soltanto un pezzo torniamo nella stanza in cui c'era la libreria e io ve l'avevo detto che questa libreria aveva le caramelle dentro perché guardate sembra uno che l'ha morsa posto alla dentata cosa non si fa per un paio di caramelle in situazioni del genere proviamo un attimo però a spostare il cacciavite qui dentro ecco qui distrutto tutto bene come piace a me ora so cosa ho fatto so cosa ho fatto posto fine alla tortura infatti qua si è disabilitato tutto forse no ancora ha avuto un tic se faccio veloce dovrei riuscire a passare seguiamo le tracce di sangue si batti un 5 amico che entro a vedere come stai ma qui eravamo si è siamo dall'altra parte ok bene 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 perfetto e questa è l'ultima cosa di pietra che avevamo visto ecco ah che idiota che sono mi ero dimenticato che l'avevamo vista era proprio dentro questa stanza ok abbiamo tutto veloce veloce prima che si riattivino queste cose nel foglietto di prima mi sembrava che avevamo visto dei simboli simili a questi qua quindi proviamo a leggerlo avete visto ecco si in questo ordine quindi una croce così così e così va bene croce destra sinistra dritto ok tenterò di ricordarmelo allora prendiamoci di nuovo tutto mettiamo la croce destra sinistra dritto mi pareva fosse così qualcosa si è aperto una scala bene bene si la via d'uscita possiamo andarcela ah non sapevo che non era così facile veloce 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 perché lui sente i movimenti e questa volta è tempo di andare ah mai più film horror di sera perché mi fanno fare questi brutti incubi non li guarderò mai più ma cerchiamo di guardare il lato positivo delle cose siamo salvi ragazzi non c'è più quel mostro che ci perseguita una macchina da cucire sembra questa cos'altro c'è qui oh uno specchio come un'ombra dentro lo specchio o sono io no non mi dite che sono un'ombra sono io che cosa succede il pozzo il maledettissimo pozzo è lui il responsabile di tutto adesso ricordo loro mi hanno preso le ombre mi hanno preso tutto questo tempo sono stato uno di loro ero un'ombra tutto questo tempo posso riguardarmi sono un mostro uno di loro beh ora posso anche tornare al mostro tanto sono ok ho chiuso per sbaglio e a proposito di mostro ora ho capito perché si chiamava alimentatore dell'ombra si nutriva di esseri come me ecco perché potevo morire qua c'è una porta andiamo un tizio con una torcia beh ora che sono un'ombra posso spaventarlo io mi dispiace amico adesso tocca a me spaventarti eccolo lì un viaggiatore proprio come me prima nel momento in cui mi ha visto ha cominciato a correre lui ha il mio biglietto per uscire di qui la mia unica possibilità di svegliarmi guardate che scappa ma non può scappare dall'ombra devo soltanto riuscire a prenderlo impossessarmi del suo corpo dormiente un corpo in cui io poi potrò svegliarmi hai capito non si scappa dall'ombra ma lo voglio veramente devo diventare un mostro così facilmente il mostro di cui ho avuto sempre paura dobbiamo farlo o lasciarlo andare posso anche lasciarlo andare volendo vediamo cosa succede sta chiudendo l'ascensore ho esitato e ho permesso che l'uomo se ne andasse questo circolo vizioso deve finire rimarrò qui per sempre qui in questo profondissimo sonno sono io questo un'ombra poverina the deepest sleep che gioco che gioco veramente bello quindi il clown in qualche modo sono io che mi sono suicidato penso che la storia è che io ero un clown per qualche motivo mi sono suicidato e sono diventato un'ombra potevo magari sfruttare gli altri viaggiatori per impossessarmi del loro corpo e quindi come risuscitare bella storia cavolo bisogna dirlo script welder è un genio uno dei migliori punta e clicca che abbia provato negli ultimi anni insieme alla chiacchierata nell'infinito però se avessi preso quell'uomo cosa sarebbe successo? sapete una cosa? me lo guarderò per conto mio e ve lo lascerò scoprire a voi se volete andate nella descrizione di questo video e troverete il gioco e magari potete cambiare scelta e vedere l'altra fine detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.